vuoi che ti dà una spinta? ma stai zitto Struz, però stai a destra eh, stai attento lì eh, dopo te vai, allora io tiro un po' il cazzo, no no sta lì, sta lì, se per caso vieni giù, via via via, te fanno quello davanti mi raccomando non c'è problema, vai Ale, piano 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 ma io come seve lì eh, e comunque cazzo qua è brutto questo è brutto cazzo brutto non lo so vedete? oh che brutto eh non mi scappo io ma morto in avanti non mi scappa vedo no, magari ce la faccio qua una volta che si è sceso come è asciutto lì, hai visto? andiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.